Il poliambulatorio distruttuale a Bazzano oggi è finalmente in realtà. La struttura è stata trasferita da Pagani che è pienamente operativa, si sviluppa su 500 metri quadri all'interno di locali nuovi antisismici che nel doposisma avevano ospitato il Tribunale dell'Aquila. Nella struttura che si trova nel nucleo industriale di Bazzano ci sono ben 20 stanze climatizzate, ambulatori di tutti i tipi, odontoiatria, oculistica, orologia ed endocrinologia, allergologia, dermatologia, orologia, cardiologia, ortopedia, autorilano la ringoiatria, collocati nel piano terra dove ci sono anche un'ampia sala d'attesa e la sala prelievi. Nel primo piano hanno trovato spazio di rigenza infermieristica medica, i servizi di cup e ticket. Il trasferimento delle attività a Bazzano per il manager dell'Asl Tordera rappresenta un salto di qualità in termini di disponibilità di spazi che prima erano ridotti per ovvi motivi e anche per la sicurezza strutturale degli edifici. Il poliambulatorio, così come è concepito, coprirà le esigenze di una buona porzione di popolazione. Qui si potranno svogliere al meglio le attività specialistiche di sportello, in locali certamente più idone, anche dal punto di vista igienico. Ci abbiamo messo quasi un anno, però devo dire che siamo molto soddisfatti perché il posizionamento in questo sito, l'ex tribunale provvisorio della città dell'Aquila dopo il terremoto, del distretto sanitario, è un arricchimento della proposta ed è una facilitazione per i nostri utenti. Io mi auguro che si trovino bene, che vengano sempre più numerosi e che sia un elemento di raccolta per tutta la città e non soltanto per la parte est della città. È la stessa offerta sanitaria che avevamo in maniera però meno ortodossa e meno accogliente nella località di Paganica. Qui adesso abbiamo degli ambulatori seri, abbiamo dei locali adeguati, abbiamo anche dei parcheggi utili a fare in modo che le cose si svolgano nel miglior modo possibile per gli utenti. Ci sono 20, tra medici, infermieri e personale amministrativo, che lavorano nel poliambulatorio distrettuale. Funziona a pieno, ha spiegato il dottor Luigi Giacco, responsabile dei distretti dell'Aquila e dintorni. Una cerimonia breve ma sentita, alla quale hanno partecipato oltre al manager Tordera anche il sindaco Biondi, il vice sindaco Liris, il consigliere regionale Pietrucci, il direttore sanitario aziendale Teresa Colizza. Uno degli obiettivi perseguiti, come più volte ha affermato anche il sindaco, è la deospedalizzazione di alcuni servizi. Sulla stessa linea d'onda, il pensiero del vice sindaco, una zona così popolata meritava attenzione. Ringraziamo gli alpini che hanno ospitato fin qui. Era importante lasciare anche un certo senso di provvisarietà. Prossimo obiettivo, riportare dopo la riqualificazione dell'area di Colle Maggio, il distretto sanitario dell'Aquila Centro in centro.